Serata di Gala E' un'attrice messinese che ci ha abituato negli anni a tante sue opere e questa in particolare ha colpito l'immaginazione di Picciolo prima e di Saia dopo e è venuto fuori il film. Un film fantasy come è stato definito tra realtà e appunto molta fantasia e ne parliamo con i protagonisti ovvero con il regista, con il produttore sceneggiatore e anche con due degli attori ovvero Salvatore Bertè e Giada Vadalà. Questa è la prima proiezione qua in Sicilia, la prima proiezione commerciale appunto perché l'anteprima mondiale di questo film è stata effettuata al Taormina Film Festival quest'estate e per me è stato un grande onore perché il film addirittura non è stato solo proiettato, cioè non ha gareggiato soltanto in concorso il festival ma addirittura ho avuto l'onore proprio con questo film di aprire il festival di Taormina che tra l'altro è uno dei festival più importanti, più prestigiosi e anche più storici a livello mondiale. Quindi per me è stato un grande onore ma è sempre una grande gioia appunto presentare questo film qua in Sicilia, anche una grande gioia presentarlo questa sera qui a Messina perché io penso che la Sicilia sia una terra bellissima che è molto cinematografica, molto aperta al cinema. E appunto questo film noi l'abbiamo ambientato qua in Sicilia, l'abbiamo girato tra Milazzo e Castro Reale e appunto è un film al 100% siciliano perché buona parte del cast è siciliana, il produttore è siciliano, io sono di origine siciliana, la scrittrice è siciliana. E appunto abbiamo fatto un film Bain in Sicilia, secondo me molto molto bello, molto molto commovente e che può secondo me suscitare diverse emozioni. La Sicilia è grande però qui siamo in provincia di Messina, Patrizia è di Messina e naturalmente anche Milazzo e Castro Reale sono della nostra provincia. Com'è nata l'idea del film? Mi spiego meglio, conoscevi già l'autrice del libro, Patrizia Vigari oppure ti è capitato questo libro fra le mani? Ecco, com'è nata l'idea? Allora l'idea è nata nell'estate del 2022 quando il produttore del film Paolo Picciolo mi contattò e mi chiese appunto di dirigere questa sceneggiatura da lui scritta però appunto basata sull'omonimo romanzo di Patrizia Vigari che all'epoca credo fosse ancora inedito e appunto io appena lessi questa sceneggiatura me ne innamorai subito perché innanzitutto io sono un grande appassionato del cinema fantasy e ho avuto l'opportunità appunto in un'età giovanissima appunto già di esordire con un prodotto che a me piaceva e soprattutto sono stato contento perché è vero che il genere fantasy è un genere molto bello ma purtroppo un po' poco coltivato in Italia allora qui ho avuto appunto la possibilità di introdurre un film, di introdurre un'opera che potesse come dire rompere un po' gli schemi dei canoni classici del cinema italiano e infatti così è stato perché appunto noi siamo riusciti a realizzare con il tempo questo film e appunto posso dire che ho avuto l'onore di dirigere uno dei pochi film fantasy in Italia quindi per me è stata una gioia veramente immensa ecco film fantasy quindi tra realtà ma anche tanta fantasia tra realtà e fantasia esatto perché di base comunque è un film realista ambientato in una realtà normale però con un approccio surrealista perché questo film appunto è ambientato a San Camillo una città fittizia anche un po' difficile da collocare geograficamente che però è vero è una realtà però ambientata in questo mondo surreale che appunto ho voluto attuare apposta uno stile molto particolare dove gli unici due colori quasi presenti in questo film sono appunto il giallo e il blu un po' appunto per rendere il tutto più magico e un po' anche per una questione simbolica perché il giallo rappresenta il colore delle stelle mentre il blu rappresenta il colore del cielo stellato diceva poco fa cast in particolare o in gran parte siciliano vogliamo spendere qualche parola? assolutamente sì la maggior parte degli attori e delle attrici di questo film sono appunto siciliani e messinesi sono stati attori veramente molto molto bravi con cui mi sono trovato molto bene ed è nato un grande feeling tra questi attori appunto voglio appunto ricordare Salvatore Bertè, Giada Vadalà, Ruben Lamalfa, Sabrina Samperi che sono appunto attori messinesi che hanno veramente dato il massimo in questo film e io sono stato molto molto fiero e contento di loro vogliamo conoscere meglio Saia, una brevissima scheda appunto sì io sono appunto un giovane regista nato e cresciuto al nord, nato e cresciuto a Savona in Liguria però le mie origini sono appunto siciliane perché mio padre e miei nonni sono originari di Castro Reale un paese appunto sopra Milazzo e per me appunto è stato una grande gioia, un grande onore fare questo film perché mi ha dato la possibilità di tornare alle mie origini mi ha dato la possibilità di tornare alle mie origini e anche di girare il film a Castro Reale cioè appunto nel paese appunto in cui sono cresciuti i miei nonni, in cui è cresciuto mio padre e questo mi ha veramente reso molto molto felice c'è poi un cognome che testimonia queste origini tra l'altro che io conosco molto bene assolutamente, Saia che è appunto un cognome molto particolare perché purtroppo al nord fanno fatica a pronunciarlo, lo pronunciano Saia e invece quando torno qua mi fa sempre molto piacere perché giustamente lo pronunciano come si deve pronunciare ma non si è capito le origini ebraiche, spagnole, c'è un macello su questa storia sì esatto, le origini sono ancora un po' sconosciute perché in italiano ha un significato in siciliano ha un altro significato, qualcuno dice appunto con cognome di origine semita il profeta Esaia, il profeta Esaia io ho perso l'ipere negli anni esatto, ci sono diverse teorie però non so se sapremo mai la verità senti, torniamo al cinema, programmi per il futuro, programmi per Francisco Saia allora per adesso appunto siccome io sono una persona che ama molto fare le cose alla volta per adesso mi sto concentrando su il finire e curare bene appunto la distribuzione del ladro di stelle cadenti non ho ancora bene in mente un progetto futuro ho ricevuto diverse proposte o qualcosa in cantiere però ancora diciamo non posso dire che ho un progetto futuro a cui lavorerò sei giovane, hai voglia al tempo assolutamente sì io sono un appassionato lettore di Patrizia perché scrive storie fantastiche, belle, molto strane Patrizia è qui, la coinvolgiamo ecco perché possiamo fare tranquillamente tutti assieme Patrizia Vigari, l'autrice del libro ovviamente mi ha detto stai sto scrivendo un libro che si chiama il ladro di stelle cadenti scusate ma mi aspetta siamo in diretta, siamo in diretta, tranquillissimo e quindi ecco dove è nato il rapporto fra il cinema mi fa il ladro di stelle cadenti bellissimo, lo devo leggerlo al più presto dopo un po' me l'ha mandato, gli ho detto sì mi compri i diritti poi gli ho detto chiaramente guarda il film, la storia è molto bella però da un punto di vista cinematografico per fare una sceneggiatura qualcosa va cambiata e là sono cominciate le prime discussioni con repremende e cose varie e minacce non velate, minacce vere vere proprio esplicite diciamo esplicite esplicite ecco e comunque perché la sceneggiatura chiaramente non è un romanzo il romanzo conta nel lettore gioca sull'immaginazione del lettore chi va al cinema non mette nessun niente sta là e subisce passivamente quello che vede è quello che sente e io quindi ho fatto queste piccole modifiche è stata una cosa che mi ha divertito moltissimo e poi chiaramente perché un film costa la cosa più difficile del produrre un film è trovare i soldi ce n'è un'altra difficile pure la distribuzione c'è certo infatti dunque io mi sono buttato in questa produzione cinematografica di pura follia secondo me proprio di sconsiderato le mie figlie mi hanno diverse volte minacciato di non farmi nominare un amministratore di sostegno insomma fra le figlie e donne l'autrice del libro donna complimenti io no io dico una cosa ho avuto una madre due mogli due suocere due figlie tre ziette mi hanno cresciuto le donne anche il cagnolino era pure femminuccia se era il cagnolino pure femminuccia no cagnolino no ho tartarughe donne però per cui io sono cresciuto in mezzo alle donne è un mondo che sento più vicino a me ecco diciamo così e poi ci servono io devo riconoscere scusa se ti interrompo che in effetti la mia storia era un po' troppo complessa da riportare sulla scena e quindi ho alla fine ob torto collo ho accettato le modifiche che Paolo ha fatto alla trama anche se l'impianto è quello è quello dell'idea mia iniziale un'idea che tutti dicono non voglio dirlo io è particolare molto originale molto difficile da rintracciare e da rinvenire nel panorama delle storie anche solo in letteratura in Italia Paolo ha colto questa originalità e ha voluto riportarla sulla scena nei limiti in cui poteva essere riprodotta e l'ha fatto al meglio e questo glielo devo riconoscere benché io l'abbia effettivamente minacciato e anche un po' maltrattato no vabbè questo è il gioco comunque della comunicazione perché anche da questo lato un conto è fare televisione un conto è fare radio magari trattiamo lo stesso argomento magari io faccio un servizio per la radio uno per la televisione però devo fare i conti con degli strumenti diversi ovviamente anche per Picciolo se ci sono programmi per il futuro sì io ho avuto un secondo progetto approvato dal ministero che si chiama Alice il pianoforte blu nel quale probabilmente Claudia Gerini sarà la protagonista anche questo film sarà girato in italiano e in inglese perché possa essere distribuito sul miliardo e mezzo di anglofili che ci sono nel mondo e spero che in primavera cominciamo noi alla produzione di Patrizia e concludo tu la notte non dormi e hai il tuo lavoro ovviamente la notte non dormi e scrivi sì è vero hai cominciato a scrivere qualche altra cosa? assolutamente io ho scritto sono quasi alla conclusione della seconda parte del lato di stelle cadenti e ho almeno quattro o cinque romanzi cominciati perché la verità è che io scrivo così apro le storie le lascio lì quando poi le storie vengono a bussare alla porta per essere continuate le continuo l'ultima cosa che voglio dire lo dico sempre perché è una delle cose più belle che mi sono successe in relazione sia al film il ladro di stelle cadenti che al romanzo mio omonimo è che chiunque io abbia incontrato che abbia la confidenza per dirmelo ha detto che da quando lo ha letto il romanzo o da quando ha visto il film non ha più guardato il cielo nella stessa maniera si parlava con Fago Regista presenze siciliane nel cast del film Salvatore Bertè e già la vada là come è andato questo film questo regista va bene? questo regista è un regista diverso da tutti gli altri per la prima volta in vita mia quando ho fatto l'audizione il provino mi disse subito sì sei tu e io ho pensato ma questo mi imbroglia come le faremo sapere sei tu non mi chiamerà mai invece poi mi ha chiamato evidentemente evidentemente è stato difficile questo film per me è una scena però è una scena molto intensa ed è una scena come sapete girata sia in italiano sia in inglese quindi per quanto io abbia fatto tanto teatro comunque ci stanno i doppiatori ci stanno i doppiatori e qua non ci stanno nel senso qua sottolineiamo questa cosa questo film è stato girato interamente due volte in italiano e in inglese noi facevamo action e la facevamo in inglese azione e la facevamo in italiano tutto ciò non è una cosa da tutti i giorni né facile almeno per me non sono americana chi parla benissimo l'inglese chiaramente ha un'arma in più io da onestà con onestà e cantiana gli ho detto io studio su copione tutto chiaramente avevo una paura perché ho detto poi vado sul set e combinerò un macello lui mi ha preso non posso ho studiato tantissimo per fare veramente mi sono impegnata tanto però per me è stata una grande soddisfazione perché recitare anche in inglese non è una cosa a questo punto andiamo avanti pure con l'inglese non si sa mai nel futuro chiaramente scherzavamo poco fa con i cognomi Bertè va da là insomma abbastanza direi locali direi sì il regista lei chiedeva com'è questo regista il regista ha una caratteristica questo regista giovane regista di mettere al proprio agio gli attori cioè sul set ha creato insieme alla produzione hanno creato una famiglia si andava sul set e si viveva in famiglia direi che comunque quando l'ambiente è tranquillo quando si si lavora sicuramente meglio non mi dite però che vi siete divertiti avete fatto altre no perché dicono tutti i consigliattori io mi sono divertita dopo quando ho finito ma io mentre giravo la scena con questo fatto dell'inglese non è che mi sono proprio tanto divertiti nel senso che per me era una cosa diciamo che io vengo dal teatro per cui il teatro si vede quando il gruppo è coeso e quindi lo trasmette al pubblico vedendo il film voi potreste potrete vedere che effettivamente c'è questo c'è piacere di stare insieme sul set nel teatro naturalmente c'è come dire una reazione immediata col cinema con la televisione con la radio c'è una reazione che noi immaginiamo sperando che sia naturalmente positiva sono difficoltà diverse ultimo flash parlavamo prima dell'anteprima a Taormina com'è andata a Taormina? perché se è andata bene a Taormina va bene pure a Messina sicuramente sicuramente andrà bene sempre perché è un bel film e allora io ho detto poco fa è una favola una favola per adulti e abbiamo bisogno in questo momento delle favole per trasmetterle ai ragazzi che stanno crescendo che hanno perso hanno perso la fantasia e questo è un film sia per adulti che per i ragazzi io direi anche per noi stessi oltre che per trasmettere ai giovani no per noi stessi perché stiamo vivendo in un momento particolare della società sta vivendo un momento e ha bisogno e ha bisogno e ha bisogno di queste favole ha bisogno di guardare il cielo e guardare le stelle che non... anche un cinema diverso rispetto a quello a cui siamo abituati forse c'è troppa violenza al di là dei film di guerra o quelli proprio c'è troppa proprio questo un po' di coesia eh sì eh sì e io il mio personaggio è un personaggio così passo però quel poco che passo devo trasmettere l'affetto verso questo ragazzo è un affetto paterno di protezione è stato bello è stato bello perché ho visto il ragazzo mio figlio ecco il personaggio di Giada velocemente la moglie del buttafuori non è proprio chiamata così la moglie del buttafuori abbastanza energico abbastanza caricato volutamente caricato mi piace molto la scelta dei colori lui ha scelto dei colori particolari decisi sono quelli sono il giallo sono l'azzurro io sono tutta gialla e come diceva lui no va bene non diciamo a chi si è spilato perché non è no 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 non si dice no però aveva un'idea precisa non sto chiedendo nulla no no quello ha fatto quello ha fatto l'ha fatta proprio così sì è molto energica è breve è una scena breve ecco in confronto a tutta la poesia del film forse è una scena che rompe un attimino sì decisamente rompe mi preoccupo è fuori dal è fuori dal è fuori dal lo schema di recitazione diciamo è fuori da quello schema di recitazione è più teatrale che cinematografica ecco diciamo e mentre io sono Pietro il pescatore che basta così non andiamo oltre se no poi va a finire che non ci viene se lo spieghiamo poi insomma non vogliamo spoilerare non è giusto perché ci sarà una seconda una terza e altre e altre proiezioni ovviamente grazie a Bertè e vado là grazie grazie a tutti Grazie a tutti.